E sai tagliacchieti, ovvero voglia di continuare anche al Palatricalle la corsa per il migliore piazzamento possibile nella griglia dei play-off. La squadra di coach Sorgentone, infatti, dopo essersi sbloccata in trasferta, dove non vinceva da tre mesi, ospiterà la Sutor Montegranaro, squadra giovane che occupa la tredicesima piazza in piena zona play-out. Gli ospiti sono reduci dal successo nel derby casalingo contro il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio, che ha stoppato una serie nera di sette sconfitte consecutive. In trasferta, Montegranaro ha conquistato tre vittorie in dieci partite, mentre la ESA Italia, con il successo a Senigallia, ha raggiunto Civitanova al sesto posto ed è a quota nove vittorie su dieci al Palatricalle. All'andata si impose Chieti 81-83 con una prova mostruosa di Ruggero, 32 punti e 5 su 9 da 3. I favori del pronostico, insomma, sono tutti per Chieti, chiamato comunque a non sottovalutare l'impegno. Tra gli ospiti anche la guardia ex Pescara, Michele Caverni, palla due alle 18, arbitreranno Barbieri di Roma e Faro di Tivoli.